Futuro incerto a Capriati e a Volturno. Salvo miracoli, i casertani non si iscriveranno al prossimo campionato di eccellenza. Potrebbe, ed il condizionale ed obbligo, terminare così il sogno di una squadra che ha disputato due esaltanti stagioni, recitando un ruolo da protagonista nel panorama calcistico regionale, aggiudicandosi il campionato di prima categoria e il titolo regionale, e poi conquistando la promozione in eccellenza, classificandosi al secondo posto senza subire sconfitte sul campo. Alla base della crisi societaria, la mancanza di risorse economiche è un problema che ormai attanaia a tanti club. A Capriati, infatti, si è verificata una situazione molto simile a quella in cui si trova attualmente l'Isernia. Nel club casertano, il principale sponsor, un imprenditore isernino che lo scorso anno ha sostenuto economicamente la società, si è ritrovato da solo a causa di promesse fatte e non mantenute. Ad alcuni calciatori è stato già dato il via libera per accasarsi altrove in vista dell'imminente stagione calcistica e tutti i dirigenti hanno rassegnato le proprie dimissioni. Tuttavia, resta ancora una flebile speranza, visto che manca un mese circa al termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al massimo torneo regionale, fissata per il 24 luglio. Da questa situazione potrebbe trarne beneficio il Baranello, che in questo caso staccherebbe un pass diretto per il campionato di eccellenza. Il destino della formazione di Emanuele Di Chiro, infatti, dipende da come si muoveranno l'Isernia e l'Olimpia agnonese, semmai dovessero presentare domanda di ripescaggio in Serie D. Tra le società che hanno mosso i primi passi c'è sicuramente il Gambatesa, che dopo aver affidato la panchina al giovanissimo Mascia, classe 1988, ha avviato un discorso di scuola calcio di comprensorio e ha lasciato intendere di avere progetti ambiziosi. Continuano i contatti con calciatori di spessore al fine di allestire una rosa competitiva in grado di dire la sua nel prossimo campionato d'eccellenza. La preparazione precampionato prenderà il via la seconda settimana di agosto sui campi di Gambatesa e del centro sportivo Casanova a Lucera. Intanto la società sta valutando under che possono essere utili alla causa bianco-verde. Il prossimo stage è previsto per venerdì al campo San Michele di Foggia. Nuova panchina a Vairano dopo la vittoria del campionato, il giovane ed ambizioso presidente Luigi Rega ha affidato la squadra a Pietro Pacilio. A proposito del Treppini, una ventata di novità anche a Piedimonte e Matese. Romagnini passa dietro la scrivania e cede il testimone ad Alfonso Camorani che dopo una lunga carriera da calciatore da settembre inizierà quella da tecnico mentre Romagnini diventerà direttore sportivo. Nessun cambio invece a Rocca Sicura. Sulla panchina siederà nuovamente mister Bonomi. La squadra ha disputato un ottimo campionato e l'obiettivo è quello di ripetere tutto il buon lavoro fatto. La società è all'opera per allestire un buon organico tra i possibili riconfermati buona voglia ed amoroso.